Buongiorno, eccoci nell'edicola di 8 Channel anche stamattina. Andiamo a vedere subito i giornali partendo dal Roma. Le regionali in apertura. Maresca, io candidato? No, resto magistrato. Intanto ieri monetine contro De Luca, tre denunciati. Poi la camorra, due raid per tre delitti, il ras pagano confessa. Colpo di scena prima della sentenza. In taglio alto la Coppa Italia, stasera primo round con l'Inter per il Napoli. Una semifinale che sembra una tappa proibita. Gli azzurri cercano il riscatto a San Siro. Rai 1 20 e 45 nel match d'andata contro la squadra di Conte. Torna Mertens dal primo minuto. Ancora cronaca. Il killer Andolfi Junior si dissocia. Sono distrutto. Basta clan. Il rampollo di Barra confessa. Ho ucciso Ciro Varrello. E poi domani ai pallottini. L'addio a Guglielmo nella sua parrocchia a Via Manzoni. ANM, servizio flop, lira del comune. O si cambia o si chiude. Per completare la prima del Roma andiamo a Pozzuoli. Spari tra la folla. Gambizzato, Roberto del Sole, fratello del pentito. Questo per quanto riguarda, come detto, la prima del Roma. Adesso prendiamo Repubblica Nazionale e in apertura troviamo il reportage Zaki torturato per sapere dei regeni a casa dello studente egiziano arrestato al Cairo. Il padre Patrick non sta bene, tiene duro, vuole solo tornare a studiare. L'avvocato, picchiato e interrogato per 30 ore, volevano conoscere i suoi legami con l'Italia e con la famiglia di Giulio. Di Maio interviene sulla vicenda, verità dall'Egitto, ma l'ambasciatore resta. Poi si parla della denatalità, Mattarella, aiutiamo le famiglie. Rapporto Istat, mai così pochi nati. La ministra Bonetti dal 2021 ha segno unico per i figli e via le tasse scolastiche. OMS, il virus, il coronavirus, una minaccia peggiore del terrorismo. Il primo vaccino potrebbe essere pronto in 18 mesi. L'ultimo bilancio in Cina ci dice che sono stati superati i mille morti. Questa è la prima di Repubblica Nazionale. Andiamo all'interno. E allora, in primo piano, naturalmente, i diritti umani. Rivoiamo Patrick. A casa della famiglia dello studente egiziano, arrestato al Cairo al rientro da Bologna, è stato bendato, interrogato e torturato per 30 ore. Gli chiedevano dei suoi legami con l'Italia e con i parenti di Giulio Reggeni. Ricordiamo, naturalmente, le tappe del caso Reggeni. Dottorando italiano a Cambridge era al Cairo per una ricerca sui sindacati dopo la rivoluzione egiziana del 2011. Il 25 gennaio 2016 scompare nel nulla. Il 3 febbraio il corpo senza vita fu ritrovato in un fosso lungo l'autostrada Il Cairo-Alessandria. Mostrava evidenti segni di tortura, fratture e contusioni. Ma, nonostante le numerose sollecitazioni, le autorità egiziane non hanno mai risposto alla rogatoria della Procura di Roma inviata nell'aprile 2019 per fare giustizia. E adesso il caso di Zaki, questo studente egiziano dell'Università di Bologna che prende un aereo diretto al Cairo per far visita alla famiglia giovedì 6 febbraio. Lo studente atterra alle 4 del mattino ora locale ad attenderlo. Ci sono alcuni agenti dei servizi segreti e del ragazzo non se ne hanno più notizie. Sabato è ufficializzato l'arresto per 15 giorni. E appunto in carcere sarebbe stato interrogato e torturato per ore anche con l'uso di elettrosciocco. Ora rischia fino all'ergastolo. Ringraziamo gli italiani per l'empatia e la solidarietà, dice la famiglia di Zaki. Intanto il rettore di Bologna convoca i vertici e parla di caso gravissimo. E c'è poi la testimonianza della street artist laica, lui con Giulio, il mio murale per fare rumore. Lo abbiamo visto prima, proprio nella prima pagina di Repubblica. Un monito al governo egiziano. Quello che è accaduto non deve più succedere. Sulla vicenda, abbiamo detto, interviene Di Maio. L'intervista al ministro degli esteri. Al Cairo serve un ambasciatore per Zaki e per Giulio. Una nuova missione Sofia? Nella Unione Europea molti contrari. E poi le navi non possono controllare il traffico di armi in Libia. Naturalmente parla a tutto campo Di Maio, anche sulla questione migranti. La Farnesina segue da vicino la vicenda dello studente egiziano arrestato dalla polizia di Al-Sisi. E su Regeni insistiamo ogni volta. Vogliamo la verità. Poi Leonardo consegna adesso aerei ed elicotteri all'Egitto. C'erano accordi già presi. Non può essere imputato a noi. Fa chiarezza anche su questo Luigi Di Maio. Qui nella fotografia, nel secondo giorno di viaggio nei Balcani, a Scopie, con il ministro degli esteri macedone, Nicola Dimitrov. Proseguendo da Repubblica. La paura del contagio del coronavirus. Mille morti. Il mondo si svegli e più pericoloso del terrorismo. Summit a Ginevra. Allarme OMS. E' il nemico numero uno. Almeno diciotto mesi per il vaccino, ma il contagio rallenta. Il ministro Speranza a monitorare l'Africa. Migliorano i ricoverati a Roma. Le cifre dell'epidemia oggi. Mille diciotto le vittime. Solo due in paesi diversi dalla Cina. Nelle Filippine e a Hong Kong. 108 i nuovi decessi. Mai così tante vittime in un unico giorno dall'inizio dell'epidemia. Decelerano però i nuovi contagi. Ieri mattina risultavano meno del giorno precedente. In totale ora sono poco più di 43 mila. Da Singapore alle Alpi e poi a Brighton. Il viaggio del paziente inglese che ha infettato 11 persone. Steve Walsh, 53 anni, uomo d'affari. Eccolo nella fotografia. Ha contratto il virus a Singapore. Proseguendo ancora su questo argomento. 300 milioni subito. I primi aiuti alle imprese che lavorano con la Cina. Misure allo studio anche per hotel e tour operator penalizzati dal blocco dei voli. Naturalmente tante le aziende coinvolte sono fortissimi i rischi per l'economia. L'allarme di Natalità, l'Italia senza culle. A pagina 8, qui nel grafico, il calo delle nascite. Praticamente le stime vanno dal 1915-18 fino ad oggi. Non si nasce più. Ogni 100 morti ci sono 67 neonati. Mai così male dal 1918. Mattarella agire subito in gioco. C'è il futuro del paese. Due generazioni prima della mia. I figli erano numerosi. Poi si sono ridotti ancora. L'Italia si indebolisce. Bisogna assumere ogni iniziativa per contrastare la denatalità. Dice il Presidente della Repubblica. L'economista del Boca gli fa eco. All'estero la politica ha saputo invertire la rotta. Il forum delle famiglie chiede subito un patto per la natalità. Qui ci sono naturalmente anche i numeri. 60,3 milioni la popolazione residente. 1,29 i figli per donna. 85,3 anni la speranza di vita. 120 mila i cittadini italiani emigrati all'estero. Intervista al ministro, alla ministra per la famiglia Bonetti. Già dal 2021 un assegno unico per i figli. Via le tasse sull'istruzione promette la Bonetti. Una somma mensile per tutti i bambini dalla nascita fino all'età adulta. L'importo sarà commisurato al reddito dei genitori. Ultime due pagine selezionate da Repubblica. 10 e 11 prescrizione domani al Consiglio dei Ministri. L'ipotesi del blitz alla Camera. Il governo, nonostante il no dei Renziani, discuterà un DDL con il lodo Conte Bis. Che potrebbe poi anche tradursi in un emendamento alla legge Costa. La Lega firma la proposta a Nibali di Italia Viva. Zingaretti. Così si aiuta Salvini. Qui ci sono le ipotesi per quelle che possono essere le soluzioni legislative. Un DDL Costa, un disegno di legge o un decreto legislativo. Conte ha lo scontro con Renzi. Basta arroganza e diktat. Dice il Premier, il Primo Ministro. Sulla prescrizione si sta consumando soltanto l'ultimo scontro tra Renzi e il Premier Conte. E poi parla proprio in questa intervista Lucia Annibali. La mia proposta è puro buonsenso. La loro un delirio. Lucia Annibali, 42 anni, avvocata. Siede dal 2018 alla Camera dei Deputati e deputata di Italia Viva. Questo per quanto riguarda Repubblica Nazionale. Adesso prendiamo Repubblica Napoli. In apertura troviamo i trasporti. Metropolitana, lavori verso lo stop. Cascetta, mancano 94 milioni. Il manager, opera completa in cinque anni. A settembre apre la stazione del Duomo. Ma il Ministero ci deve ancora i fondi del 2017. Alla scuola Piscicelli, al Vomero, è deserta per paura della meningite con la maestra sempre grave. Poi l'intervista con il fratello del sindaco Vassallo, da Borrelli Aspetto Giustizia, dal nuovo procuratore di Salerno. Il tram parte, ma non si sa se arriva. Si ferma quando salta la corrente. Disaggi per i viaggiatori in via Marina. E poi la polemica, regionali. De Luca che sfida il PD. Partito diesel, ma io sono un uomo libero. E poi il Napoli. Stasera la Coppa Italia. Inter-Napoli alle 20.45. Gattuso punta tutto su Mertens. Serve una notte da campioni. Il tecnico spera di ritrovare la squadra vista contro la Lazio, proprio in Coppa, e contro la Juve in campionato. All'interno di Repubblica Napoli i trasporti. Metro, cinque anni per finire l'opera. E a settembre apre Duomo. Il presidente di Metropolitana, Cascetta. Nel 2023 i treni arriveranno a Capodichino. Entro il 2025 è finita l'intera tratta Tribunale Aeroporto. A dicembre 2020 apre San Pasquale della linea 6. Ma il manager lancia l'allarme finanziamenti. Mi appello alle istituzioni. Altrimenti il rischio, dice Cascetta, è quello di interrompere i lavori. Intanto il caso. Tram, nuovo stop in via Marina. Con vogli fermi. Manca l'energia. Per due volte i treni si sono bloccati all'altezza di Piazza del Carmine per un calo nella fornitura elettrica. Pronti i mezzi sostitutivi. L'ANM ammette c'è un problema con l'Enel. Abbiamo chiesto di risolverlo. A una settimana dalla riattivazione delle corse ancora problemi e disagi per il servizio tranviario tra appoggio reale e piazza municipio. Questo per quanto riguarda Repubblica Napoli dove vediamo anche un po' di sport. Mertens, re di coppe. Il Napoli a San Siro 20 e 45 contro l'Inter. punta sul suo bomber per la finale. Serve un gol. Con il belga ci sono Kalleon in signe. Elmas fra i titolari. Dei nuovi gioca solo Demme in porta a Ceospina. Ancora fuori Allan. Il ritorno della semifinale al San Paolo in programma il 5 marzo. E a proposito dell'episodio VAR che ha visto protagonista Milik contro il Lecce. Milik il danno e la beffa. Multa di 2.000 euro. La multa automatica dopo l'ammunizione per simulazione rimediata da Milik. Un dermi di 15 anni. Gattuso torna a casa. 12 stagioni da calciatore del Milan. Due da allenatore. La strana serata del tecnico che si ispira a Conte. E ora lo sfida. Lasciamo Repubblica Napoli. Prendiamo adesso la prima del mattino nazionale. L'Italia si spopola. Il sud di più. Mai così pochi figli. Nell'ultimo decennio persi 134.000 neonati. Mattarella intervenire. Il mezzogiorno verso il collasso demografico. Sull'invecchiamento pesa la fuga dei giovani. Il nodo della prescrizione. Ermini, CSM. Stop riforme di parte. Adesso servono soluzioni condivise. Il governo frena ma è scontro Renzi-Zingaretti. Poi abbiamo visto l'allarme dell'OMS. Il virus peggio del terrorismo. L'organizzazione Bacchetta la Cina. Dati falsati. Spunta il superuntore. Abbiamo visto quell'uomo d'affari. 11 contagi in tre stati. E poi Napoli. La campagna mediatica del clanno russo. Manifesti antipentiti. Gli spot del boss. Vedete una delle scritte apparse su un muro del quartiere Miano a Napoli. Mertens in Signia Calleon. Tre piccoletti per la Coppa Italia. Almeazza la prima semifinale contro l'Inter. La semifinale d'andata. Vediamo allora dal mattino anche la prima interna di Napoli. Eccola qui. Salva De Magistris. PD diviso. Quel patto è una sciagura. Debiti congelati per un anno. La norma ancora ferma in commissione. Fronda nei democratici. Basta aiuti o diventiamo complici del disastro. Le regionali rotondi. Noi ex DC fuori dal centrodestra. Se non ci sarà caldoro. Il tram chiamato desiderio. Due paralisi in una giornata. Abbiamo visto i disagi dei trasporti a Napoli. E poi manifesti e graffiti contro i pentiti. Gli spot del boss. Miano tappezzata di insulti e minacce. I messaggi sono finiti negli atti dei PM. Le campagne del mattino. Drinkopoli. Ogni casella una vodka. Il gioco delle sbronze. L'ira delle mamme. E poi l'epidemia coronavirus. Cinesi in auto quarantena. L'ASL senza alcun sintomo. L'isolamento non è necessario. Chiarisce l'azienda sanitaria locale. Allora direi di andare a vedere un po' qualche servizio. Cominciamo dalle regionali, dalla politica. Perché insomma tiene banco il caso De Luca. Con il lancio di monetine. Che il governatore ha subito in una sua visita a Poggio Marino. E poi anche gli strali che De Luca ha rivolto al PD. Io sono un uomo libero. Vediamo il servizio. Insulti e lancio di monetine. Hanno accolto oggi l'arrivo del presidente della regione Campania. Vincenzo De Luca. Nella biblioteca comunale di Poggio Marino. Dove era in programma un incontro sulla figura di Bettino Craxi. Ad inscenare la protesta. Uno sparuto gruppo di contestatori. Che rivendicano interventi della regione. Sul problema atavico degli allagamenti delle strade. Al convegno era presente anche Bobo Craxi. Fio del leader socialista. Una contestazione che ha riportato alla memoria. Quella subita da Bettino Craxi. All'uscita dell'hotel Raffaele. In una delle scene simbolo. Della fine della prima repubblica. Mi pare che sia un atto di rinnovata stupidità. Diciamo dopo quell'episodio di barbarie che ha colpito il padre. Ripetere l'episodio per la presenza del figlio. Com'è complicata la civiltà in questo paese. E anche il rispetto umano. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Hanno poi segnalato all'autorità giudiziaria tre persone. Due sono consiglieri comunali di opposizione. A guidare il comune di Poggio Marino. È Leo Annunziata. Che ricopre anche il ruolo di segretario regionale. Del Partito Democratico. Altre dieci persone sono state identificate. E la loro posizione è all'esame dei carabinieri. Nel pomeriggio De Luca è stato poi ospite. Del Rotary Club di Napoli. Da dove ha lanciato un messaggio chiaro. Alla PD che continua a rimandare l'ufficializzazione della sua ricandidatura alle regionali. Gli uomini liberi sono scommodi. Ha detto De Luca. Io sono un uomo libero e non sto dietro a correnti e bandiere di partito. Quando devo scegliere tra gli interessi della mia comunità e quelli del partito. Scelgo la mia comunità. Questa cosa a volte è difficile da digerire. Ha aggiunto soprattutto da parte di chi in qualche settore marginale di partito. Pensa di contrattare sotto banco. Ma qui oggi il mercato è chiuso. Ha concluso De Luca. Siamo sul mattino Avellino. Adesso l'apertura per il mercato deserto. Ieri a Campogenova. Parola al TAR. Continua la guerra tra festa e le associazioni degli esercenti. Dopo il parapiglia di lunedì. Solo un ambulante a Campogenova. Oggi l'esito del ricorso contro il trasferimento. Poi vittime di usura. Costretti a inscenare falsi incidenti. Dieci le denunce presentate dagli avvocati di compagnie assicurative colpite dalle truffe. Clampartenio. Rigettati ricorsi. In sette restano in cella. La psicosi coronavirus. Cinque cinesi isolati in via precauzionale. Ma nessuno sta male. Il calcio. Circelli richiama il DS di Somma. Il gruppo di Izzo non molla la presa. Restaurazione. Lupi torna appunto. Salvatore di Somma. Poi sul predissesto. L'assessore Cuzzola scrive alla Corte dei Conti. È tutto in regola. Avellino attende sempre gli 8 milioni di euro dal Ministero delle Finanze per avviare il predissesto. E poi l'avvertenza isochimica. Sbloccati gli ultimi pensionamenti. Soddisfatta Maria Pallini del Movimento 5 Stelle. Sfida dura ma abbiamo vinto. La D'Amelio al Settin della Novo Legno bisogna portare la battaglia a Roma. Facciamo il punto nel prossimo servizio sulla Cherel Mercato ad Avellino con la guerra che continua tra Festa e gli esercenti. Campo Genova questa mattina era vuoto. I mercatali hanno disertato anche questa volta. O meglio sono arrivati ma non hanno aperto le bancarelle perché l'aria non era attrezzata. I commercianti stanno qua. Parecchi sono andati via delusi di quello che hanno trovato. Ieri coloro che si sono regati avevano già visto la situazione in cui è versa il piazzale. Non ci sono gli stali, non ci sono i numeri. Sembrerebbe da quello che è emerso dal Consiglio Comunale che non ci sono neanche i certificati di ultimazione dei lavori. Non c'è il certificato ASLA, non ci sono le attestazioni dell'ARPAC. Chi più ne ha più ne metta. Non ho trovato il numero, non so dove mettermi. E sono stato preso un'altra volta per i fondelli da questo signore. Io l'ho classificato Pinocchio e lui dice un sacco di bugie che siamo morosi. E non è vero. Qua nessuno è moroso. Nessuno. Una brutta pagina, quella che si è consumata ieri con il sindaco e i mercatali che hanno avuto un acceso scontro verbale, uno scontro continuato anche in Consiglio Comunale. Io non te lo voglio, perché ci metto la faccia io, ma in mezzo ci sto io, da solo, perché ci metto la faccia io, hai capito o no? Vediamo il mattino Benevento, ora la crisi politica, pressing sul sindaco. Guarantiello invita Mastella al ripensamento, l'ipotesi di un patto con 17 adesioni, manovre del partito del non voto. Di Maria, la Lega, Molteni sbaglia, sono loro a non rispettarci. Poi lo smog, domenica ha previsto un blocco delle auto non solo a Capodimonte, polveri killer da primato, stop alle auto. In taglio alto, il processo, intossicati al Cinema San Marco, chiesta pena di tre mesi. La difesa, evento imprevedibile nel 2016, guasto all'impianto di riscaldamento che provocò malori tra gli studenti. Si parla di negligenza, follia al terminal bus, aggredito conducente, autista Etac finisce in ospedale e poi droga in Valle Caudina, scattano le condanne. Le misure per quattro persone, c'è anche una donna, furono sorpresi a maggio sull'Appia con gli stupefacenti. Sempre da Benevento, andiamo in provincia, Morcone, l'ex carcere accoglierà 70 migranti. Airola, Ambiente e Tumori, scambio di accuse in commissione. E poi la manifestazione Riverberi che spegne dieci candeline, qui nella foto il direttore artistico Luca Aquino, festa con i big del jazz. Questo per quanto riguarda Benevento, prendiamo adesso Caserta e troviamo il duello sui campetti. Confindustria li riconsegna al comune, ora faccia la sua parte. Dopo 18 mesi, piazza Carlo di Borbone dai privati torna alla gestione pubblica. Il blocco e i disagi, carte d'identità, uffici fuori servizio, la beffa dopo i danni. E il furto alla Nagrafe, banca il personale, niente documenti. A lezione senza inquinare, scuola, cresce il piedibus, aderisce anche la Don Milani. E poi l'allarme di confesercenti, le strade semideserte, lo shopping. E in agonia, la tragedia di Baia Domizia, scintille dalla stufa in camera da letto, muore un ottantenne. Ad Aversa, mi do fuoco, tensione all'ortomercato, operatore si cosparge di benzina nella struttura chiusa ormai da quattro mesi. Una nomina poi, Felicori, nominato assessore regionale da direttore della Regia di Caserta, al servizio ora della regione Emilia Romagna. Questo per Caserta, prendiamo adesso il mattino Salerno. E allora, virus, sollievo e nuova stretta. Test negativo per il 42enne salernitano, ricoverato al Cotugno. Scuole, altre misure di prevenzione. Il provveditorato, gli studenti che tornano dalla Cina, autorizzati a restare a casa per due settimane. Intanto al tecnico di Contursi, la preside, annulla il viaggio a Lisbona. Prima di tutto c'è la sicurezza. Allora, vediamo un attimo il servizio, anche perché si parla di questa auto-quarantena che molti cinesi starebbero adottando. E l'ASL dice che senza nessun sintomo è inutile preoccuparsi e può scattare anche l'auto-quarantena. Vediamo il servizio. Una quarantena auto-imposta per tutelare la sicurezza pubblica. Questa è la decisione della comunità cinese due settimane di isolamento dopo il rientro da viaggi in Cina per evitare possibili contagi da coronavirus. Lo fa sapere il sindacato cinese nazionale a Napoli in una comunicazione protocollata all'ASL Napoli 1 Centro. Viene chiesto all'azienda sanitaria di individuare strutture per l'accoglienza, per chi ne avesse bisogno, e la fornitura di materiali sanitari di sicurezza idonei. Di tutta risposta, l'ASL Napoli 1 è evidenziato come non sia prevista una quarantena generalizzata in assenza di sospetto clinico, indicando nel caso si evidenzi di rivolgersi alle strutture sanitarie nel rispetto delle circolari ministeriali. Una psicosi, quella da coronavirus, che ha fatto tappa anche al ruggi d'Aragona di Salerno. Negativo il tampone effettuato al Cotugno di Napoli sul 42enne salernitano che resta in isolamento in attesa di ulteriori analisi come da prassi. Una situazione gestita, secondo il Comune di Salerno, in modo adeguato e tempestivo. In linea dei protocolli regionali, l'ente raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie dando credito solo a informazioni ufficiali per evitare allarmismi. Precauzioni adottate anche a Mirabella e Clano, nella Vellinese, nei confronti di un cittadino di nazionalità cinese tornato da un viaggio in Cina. Anche per lui sono scattate le misure di prevenzione. Il primo cittadino, Giancarlo Ruggero, ha subito informato Carabinieri, Prefettura, Asle, il dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal figlio del commerciante, per accertarsi che l'uomo e le persone entrate in contatto con lui vengano sottoposte a sorveglianza sanitaria. Ancora dal mattino Salerno, le indagini, ucciso dal Pino in due video, il film della tragedia di Cava, immagini acquisite dalla procura. E poi l'ambiente, rifiuti, raccolta a singhiozzo, ma lo sciopero riesce a metà. Spazzatura in strada, Salerno Pulita protesta a macchia di leopardo e qualche disagio. Spazzatura in strada, soprattutto nella zona orientale. L'avvertenza della Polizia Provinciale, sindacati divisi sulla riorganizzazione del presidente strianese. E poi in taglio basso alla Salernitana, un pit stop per gli stacanovisti. Dopo la partita con il Trapani, segnali di stanchezza. Ventura allora prepara il turnover contro il Chievo lunedì prossimo. Questo per quanto riguarda Salerno. Abbiamo chiuso con i giornali. Vediamo adesso il nostro sito, ottopagine.it, partendo da Napoli. De Luca Show, se sono scomodo è perché sono un uomo libero. Il governatore rassicura sulla sua ricandidatura. Abbiate pazienza, il PD è un partito che va a diesel. E poi sul Napoli ancora, contromano in tangenziale, 10.000 euro di multa. E poi la maestra colpita dalla meningite, profilassi per i bimbi a scuola. La donna è grave al cotugno, la variante che l'ha colpita è quella batterica. Andiamo adesso su Avellino. E troviamo coronavirus, cinese in isolamento a Mirabella e Clano. Un nuovo caso da approfondire e monitorare. Il sindaco dice situazione sotto controllo. Ancora su Avellino. L'AIR implementa la sua flotta. Otto nuovi bus nel circuito urbano. I pullman entreranno in funzione a partire da domani, giovedì 13 febbraio. Vediamo cosa c'è su Benevento. L'ANM, Bachelet e il suo costante richiamo alla Costituzione. Il giurista ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse. C'è stata ieri una riflessione dell'Associazione Magistrati di Benevento. Anzi è una nota questa, è una nota dell'Associazione Nazionale Magistrati di cui è Presidente il sostituto procuratore Assuntatillo che vedete nella fotografia. Sempre su Benevento. Autista del pullman, aggredito e ferito da un uomo. Il malvivente con il volto coperto e armato di bastone ha sfondato parabrezza e ha colpito il malcapitato. Vediamo anche cosa c'è su Caserta. Se Saurunca, tragedia in città, incendio in casa, muore anziano. L'altra notizia su Caserta, colpito accidentalmente da un proiettile, indagano i carabinieri. Per chiudere, Salerno. Salerno invasa dalla spazzatura da ieri sacchetti in strada. E poi, negativo al coronavirus, l'appello del sindaco di Salerno Napoli evitiamo allarmismi, date credito unicamente alle informazioni ufficiali. È tutto per la rassegna di stamattina. Grazie regia ad Aldo Fenizia. Ci ritroviamo alle 11 con il rete con ottopagine.it, poi 14 e 14.30, TG News regionale e TG Sport. Da Angelo Giuliani una buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.